Chi l'ha quasi distrutta probabilmente ne ignora anche il significato, o almeno si spera, perché se non dovesse trattarsi di un atto vandalico la cosa sarebbe ancora più grave. La barca dei giusti, collocata nel giardino di Piazza Marconi a Bitonto dall'aprile del 2014, è stata sfondata quasi di sicuro fra la notte di mercoledì e ieri mattina. La notizia è stata riportata ieri pomeriggio dal nostro sito e responsabili dello European Language School, promotore del progetto e dell'idea, già stamattina hanno realizzato un primo intervento in attesa di una riparazione completa. La barca è il simbolo di tutti i migranti morti durante la ricerca della loro terra promessa e dei giusti che hanno combattuto contro le dittature. Era stata collocata prima in Piazza Cavour e poi trasferita nel luogo dove ancora, nel corso di una manifestazione, nell'aprile 2014.